Buondì, ben ritrovati. Oggi parliamo di presenza romantica, parliamo di avere un partner che ci può aiutare a sopportare meglio il dolore fisico attraverso la propria presenza. E' stato pubblicato un lavoro su Scandinavian Journal of Pain, il primo autore di questo lavoro si chiama Duskek e in questo lavoro Duskek e collaboratori, due gruppi di ricerca, un gruppo di ricerca nelle Baleari e un altro gruppo di ricerca in un'università austriaca, hanno studiato la risposta di 48 coppie al dolore. Quanto più vi è la vicinanza del proprio partner durante una situazione fisica dolorosa, tanto più la sopportazione del dolore è maggiore. E questo è sia se il partner ha un contatto verbale con la persona, sia quando il contatto è di tipo fisico, ma anche senza contatto né verbale né fisico, la presenza, detta appunto romantica, e la presenza dell'affetto durante la situazione di dolore permette al proprio partner di sopportare meglio il dolore fisico. Questo è importante perché nel momento in cui abbiamo situazioni dolorose fisiche o psichiche da sopportare, sicuramente la vicinanza di un partner che sia presente anche senza parlare e senza toccarci, ma presente proprio come affettività e come sostegno psichico e fisico, tutto ciò ci permette di migliorare la nostra capacità di sopportazione del dolore che nella vita è molto frequente. Con questo ti saluto, ti abbraccio e buona vita e buona presenza romantica. Ciao!